Purtroppo a oggi quasi tutti i reperti sono andati dispersi sia per la massiccia antropizzazione da parte soprattutto dell'agricoltura, i trattori eccetera eccetera, ma anche sembra che ci sia una documentazione in soprintendenza negli archivi da cui si può dedurre che tra fine 800 e primi del 900 ripetuti scavi clandestini abbiano fatto sì che molto materiale sia andato a finire a collezionisti europei. Insomma di allora non sappiamo granché, perché ancora non c'erano leggi di tutela, quindi i proprietari in qualche modo se ne appropriavano. A 30 di Quarate è stato ritrovato subito dopo l'Arno, poco distante da qui, e è conservato alla Biblioteca Nazionale di Parigi. Ci possono essere ancora dei luoghi non scoperti, non ritrovati, dove ancora magari si conserva alcuni reperti? Questo è un grande interrogativo, ci vorrebbe prima di tutto la scansione al georadar e poi gli scavi e le verifiche, però io suppongo di sì, perché specialmente a valle di questi Olivetti in cui la terra alluvionale ha alzato il piano di Calpestio, ci sono rimaste tante tombe giù, che ora sono completamente nel sottosuolo. Può darsi che qualcuna di queste ancora non sia stata invasa, però abbiamo avuto la fortuna di almeno due sono totalmente intate. Questa è un'altra da un'altra parte, non qui a nord di Pieve San Giovanni. Questa è un'altra parte, non è un'altra parte, non è un'altra parte, non è un'altra parte. Grazie. Grazie.